Questi cinque segni zodiacali diventeranno ricchi al 100% dopo il 5 novembre. Benvenuti, cari amici e amanti delle previsioni. Oggi siamo immersi in un mondo in cui destino e profezia si intersecano. Si profila all'orizzonte un periodo speciale. Dopo il 5 novembre i cinque segni dello zodiaco avranno la possibilità di raggiungere la vera ricchezza, come se l'universo stesso tendesse loro una mano, pronto a soddisfare i loro desideri più profondi. Questo percorso verso il successo non è casuale. Ognuno di questi segni, grazie alla sua energia e carattere unici, sarà all'apice delle opportunità che possono portare all'abbondanza finanziaria. In questo video sveleremo chi di loro è destinato al successo e come ognuno di loro dovrà sfruttare questo periodo per sfondare. Forse sei tu quello che presto vedrà la ricchezza iniziare a entrare nella tua vita. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per restare aggiornato con nuovi pronostici e consigli per raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda che gli oroscopi e la predizione del futuro sono un modo divertente per guardare al futuro, ma non sono garanzie. Resta con noi fino alla fine, perché ogni parola può essere la chiave della tua fortuna. Primo segno toro Toro, dopo il 5 novembre si apriranno per te le porte che ti condurranno al tanto atteso successo finanziario. Sei sempre stato un simbolo di perseveranza e pazienza e, nei prossimi giorni, la tua dedizione inizierà a dare frutti davvero d'oro. Potresti ricevere un'offerta per partecipare a un grande progetto, in cui la tua praticità e responsabilità saranno molto apprezzate. La tua capacità di calcolare accuratamente le tue azioni ed evitare rischi inutili sarà la base per generare un reddito sostenibile. Il periodo successivo, al 5 novembre, offrirà opportunità per investimenti e transazioni a lungo termine che in precedenza potrebbero sembrarti troppo rischiosi. Non perdere l'occasione di investire in progetti affidabili, si riveleranno una fonte di reddito regolare ed elevato. La fortuna ti seguirà, ma richiederà determinazione e prontezza per nuove opportunità. Questo periodo può darti l'opportunità di avviare un'attività in proprio o di investire in un'attività che avrà successo e stabilità. I tuoi sforzi passati, la pazienza e la prudenza inizieranno a dare i loro frutti e i tuoi investimenti diventeranno la base per i guadagni futuri. È possibile che i tuoi cari o i tuoi partner ti offrano la partecipazione a un accordo redditizio e questo accordo sarà l'inizio del tuo percorso verso l'indipendenza finanziaria. Secondo segno vergine. Vergine, dopo il 5 novembre inizierà per te un periodo in cui ogni risorsa che investi inizierà a portare ritorni tangibili. La tua acuta attenzione ai dettagli e la tua mente analitica ti aiuteranno a vedere benefici dove gli altri vedono solo problemi. Potrebbe esserti offerto un lavoro nel settore dell'analisi o della consulenza, dove il tuo approccio pratico e la capacità di scoprire dettagli nascosti saranno inestimabili. Questo periodo è favorevole per concludere grandi transazioni o partecipare a progetti a lungo termine che richiederanno la tua capacità di controllare i processi e pianificare un passo avanti. La tua capacità di organizzare e pianificare ti aiuterà a rafforzare la tua base finanziaria. Forse troverai modi per ottimizzare le tue spese o riallocare le risorse in modo da ottenere il massimo rendimento. La tua attenzione ai dettagli e il desiderio innato di eccellenza ti permetteranno di attirare denaro attraverso progetti che richiedono precisione e professionalità. Vergine, non aver paura di investire energie in progetti che richiederanno molto impegno da parte tua. Il risultato ti piacerà sicuramente. Il tuo duro lavoro e la tua prudenza ti ripagheranno e l'abbondanza inizierà a entrare nella tua vita. Terzo segno leone Leone, dal 5 novembre si apre per voi un periodo in cui il vostro carisma naturale e il vostro desiderio di successo inizieranno a dare i loro frutti. Forse ti verrà offerta una posizione di leadership o la partecipazione a un grande progetto, dove la tua influenza sugli altri giocherà un ruolo chiave. Potrai dimostrare la tua leadership e questo attirerà nuovi partner e clienti pronti a investire nelle tue idee. Sentirai che l'universo ti guida verso il successo e ogni passo che farai ti avvicinerà all'indipendenza finanziaria. Il tuo desiderio di riconoscimento e il desiderio di distinguerti saranno supportati dalle circostanze e questo diventerà la base per un afflusso di denaro. Questo periodo ti offrirà opportunità legate alla creatività o alle attività pubbliche e potrai utilizzare i tuoi talenti per attirare attenzione e sostegno finanziario. Forse sarai invitato a un evento importante o ti verrà offerto di diventare il volto di un progetto che ti porterà sia riconoscimento che reddito. Leone, non aver paura di prendere l'iniziativa. La tua fiducia in te stesso e la capacità di ispirare gli altri saranno la chiave del tuo successo. Le tue azioni e decisioni attuali determineranno il tuo futuro finanziario, quindi affrontale con consapevolezza e fiducia. L'universo ti favorisce e il denaro ti arriverà attraverso i tuoi talenti e la tua capacità di guidare. Quarto segno dei pesci Pesci, dal 5 novembre il tuo intuito inizierà a guidarti verso il successo e l'abbondanza. Durante questo periodo, la tua capacità di percepire i cambiamenti e anticipare il futuro diventerà la tua arma principale nel percorso verso la prosperità finanziaria. Forse ti verrà offerto un lavoro legato alla psicologia, alla creatività o alle pratiche spirituali e il tuo approccio unico alla vita ti porterà reddito. Potrai usare i tuoi talenti per aiutare gli altri e questo diventerà la base per un reddito stabile. Questo periodo ti darà la possibilità di guadagnare denaro aiutando le persone che cercano il tuo consiglio e supporto. Il tuo percorso verso la ricchezza passerà attraverso pratiche spirituali, meditazione o attività che richiedono una profonda comprensione interiore. Forse decidi di aprire la tua attività nel campo dell'arte o della consulenza e i tuoi servizi diventeranno molto popolari. Le persone cercheranno saggezza e conforto in te e questo aprirà le porte al successo finanziario. Pesci, abbi fiducia nei tuoi sentimenti interiori e non aver paura di seguire ciò che ti dice il tuo cuore. Questo è ciò che ti porterà all'abbondanza. Quinto segno Scorpione Scorpione, dopo il 5 novembre inizia per voi un periodo in cui la vostra perseveranza e determinazione inizieranno a fruttarvi entrate significative. Ti sei sempre distinto per la forza di carattere e la capacità di raggiungere il tuo obiettivo, qualunque cosa accada, e ora l'universo è pronto a premiarti per questo. Forse ti verrà chiesto di partecipare ad un progetto complesso ma molto promettente, dove la tua capacità di far fronte alle difficoltà diventerà indispensabile. Questo periodo ti offrirà opportunità di crescita e miglioramento della tua situazione finanziaria attraverso la tua capacità di superare ostacoli e risolvere problemi difficili. Il tuo percorso verso il successo passerà attraverso passi coraggiosi e la volontà di affrontare le sfide. Forse deciderai di investire o avviare una nuova attività legata alla gestione o alla protezione. La tua intuizione e determinazione ti porteranno al successo e ogni rischio in questi giorni sarà giustificato. Scorpioni, non abbiate paura di usare la vostra forza e fiducia. L'universo vi sosterrà e il denaro arriverà attraverso le vostre azioni e il vostro coraggio. Quindi, amici, siamo giunti alla fine di questo fantastico viaggio nel futuro. Questi cinque segni zodiacali Toro, Vergine, Leone, Pesci e Scorpione hanno buone possibilità di trovare abbondanza finanziaria dopo il 5 novembre. Per alcuni, questa volta porterà opportunità tanto attese, per altri fonti di reddito inaspettate. Indipendentemente da come si manifesti esattamente questa fortuna, una cosa è certa, l'universo ha già preparato dei doni per coloro che sono pronti ad accettarli con gratitudine e fiducia. Non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace, per non perdere pronostici e suggerimenti ancora più entusiasmanti che ti aiuteranno a realizzare i tuoi sogni. E ricorda che gli oroscopi ispirano, ma non garantiscono risultati esatti, il tuo successo rimane sempre nelle tue mani. Ti auguriamo buona fortuna, abbondanza e realizzazione di tutti i tuoi desideri.